Buongiorno amici di Urbex e Oltre, oggi ci troviamo in una località sempre in Abruzzo sulla Maiella, questo posto è un vecchio sito romano chiamato Imanum, adesso ragazzi vi faccio vedere un pochettino com'è questo luogo, rimanete con noi! Ecco qua amici, qua ci sono due tempi gemelli, Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua ci sono alcune vecchie colonne del tempio. Quello che ne rimane. Grazie a tutti. Amici abbiamo lì la basilica e il foro che si trova qua. Che era chiuso in porticato, arrettato. Era chiuso. Grazie a tutti. 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 Ok amici, entriamo nella basilica. questo è un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.